Musica Musica Nella zona 167 a Lentini è stato realizzato un parco giochi per bambini ma è molto pericoloso perché? Perché innanzitutto io capisco che l'iniziativa è stata lotevole bellissima però non si può creare un qualsiasi cosa a Lentini e poi venire abbandonata a se stessa cioè qua è stato creato per i bambini non viene un bambino da tempo perché chi lo porterebbe un bambino o un nipote in mezzo televisori rotti tutto bruciato un siringhe in giro ecco perché ormai la destinazione del parco giochi non è indicata in questo contesto che è un po' si sa 167 quello che uno chiede tutti noi chiediamo qui di portare questo parco giochi possibilmente in un altro posto dove sarebbe più utile alla partecipazione dei bambini e forse anche più controllato dubbiamente qua l'hanno fatto creato e mai attenzionato sia qua come parco giochi che il campo sportivo che hanno creato per i bambini l'erba o mai lo sta ricoprendo non si vede nessuno nonostante io personalmente ho portato documentazione al sindaco fermata da tutti e il caro sindaco che abbiamo noi qua un amico si è lavato le mani mi ha detto affari tuoi suono questo è quello che mi ha risposto ho parlato pure con il signor Lombardo tutti si mi accolgono le mie richieste è giusto è doveroso ma nessuno muove foglia io a questo punto non so che fare continuano ad abbassare per sempre le sarci rischi dei rispettivi negozi i commercianti che operano nella centralissima via Garibaldi a Lentini e non solo in via Garibaldi infatti non si contano più i cartelli affissi davanti ai negozi che indicano la chiusura dell'attività commerciale e quindi le proposte di affitto dei locali a nuovi potenziali operatori commerciali la crisi economica in effetti sta portando al collasso l'intera economia locale e questo non rappresenta un buon auspicio per i cittadini e soprattutto per i giovani che per programmare meglio il loro futuro sono costretti a diemigrare e quindi a lasciare Lentini il campanello d'allarme non è scattato solo in via Garibaldi ma anche nelle zone periferiche del paese dove commercianti e artigiani non riescono più a racimolare le somme non solo per pagare le tasse ma anche per vivere perché a Lentini si muore di leucemia più che in altre parti d'Italia e come mai nell'ultimo ventennio i casi sono aumentati in modo sconsiderato queste domande non hanno ancora ricevuto risposta nonostante le numerose e dettagliate denunce presentate alla magistratura tutto sembra essere iniziato il 12 luglio 1984 quando un aereo militare americano C-141B precipita nella contrata viviere alle porte di Lentini cosa trasportava l'aereo è ad oggi ignoto a tutti ma da quel momento si scatena una pestilenza aumenta il numero di malati di leucemie e tumori al cervello dopo ripetute indagini si eleva un terribile sospetto a scatenare il 12 luglio 1984 l'elevatissimo calore e l'incendio spontaneo potrebbero essere state le barette di uranio impoverito contenute nell'aereo si parla di un carico di 44 tonnellate il 14 settembre 2007 il caso addirittura approda anche in Parlamento tre senatori di rifondazione comunista chiedono un'indagine tecnico-scientifica per appurare la natura dell'inquinamento ambientale il rapporto all'elevato numero di bambini morti per leucemie registrato nella provincia di Siracusa tra le ipotesi più accreditate le missioni di radioattività a seguito di alcuni incidenti addi aerei delle forze armate americane distanza nella base di Sigonella ma come se tutto questo non bastasse nel 1988 scoppia anche il problema delle discariche abusive di rifiuti ospedalieri provenienti dalle nord Italia diversi tiri carichi di rifiuti ospedalieri abbandonati maliodoranti e nocivi provenienti dalle asle del nord Italia vennero rinvenuti dai carabinieri nel territorio lentinese e precisamente nelle discariche delle contrade biviere serravalle scalpello armicci e nasche di zanne anche in questo caso venne aperta un'inchiesta dalla magistratura ma fino ad oggi non sono emerse importanti novità è un viaggio nell'inferno dei morti dimenticati e dei vivi il cui destino è segnato inesorabilmente scrive oggi sulla stampa Guido Ruotolo e la maledizione del triangolo del petrochimico di Augusta Priolo e Melilli qui si ricordano i nomi delle vittime dell'inquinamento nella via Crucis che si svolge a partire dal 28 febbraio ogni mese sempre nello stesso giorno nella chiesa dell'arciprete di Augusta Don Palmiro Presutto ma l'interrogativo continua perché nelle lentinese si continua a morire di tumori e di leucemie il comando Maristelli di Augusta comunica che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di concorso per la missione di 118 allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale di Livorno Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa dai 17 ai 22 anni non ancora compiuti in possesso della cittadinanza italiana di un diploma di scuola media superiore oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico L'Accademia Navale è l'Università del Mare che con ben sette corsi di laurea specialistica offre un'opportunità formativa imperdibile ed unica per ragazzi e ragazze che aspirano ad una carriera fondata su valori profondi e ricca di elementi stimolanti gli allievi potranno frequentare uno dei seguenti corsi di laurea specialistica scienze del governo e dell'amministrazione del mare ingegneria delle telecomunicazioni ingegneria navale ingegneria civile ed ambientale giurisprudenza scienze marittime e navali medicina e chirurgia gli allievi ufficiali durante il corso svolgeranno attività addestrativa a bordo delle unità navali e al termine dell'iter formativo saranno impiegati a tempo indeterminato nell'ambito della forza armata in relazione alla specializzazione ottenuta attività Grazie per la visione!